Amici ben ritrovati su nostro canale YouTube, vi invito come sempre a lasciare un like qui sotto, a commentare numerosissimi e a iscrivervi se non avete ancora fatto male. Allora, commentiamo la situazione incandescente e caotica legata a Leao. Situazione legata appunto al rinnovo che è di difficile risoluzione. Ieri è stata una giornata importante, anche ricca di colpi di scena, perché era annunciato l'incontro con il papà Antonio di Leao, ma non si è tenuto questo incontro. Tardo pomeriggio sembrava addirittura non ci fossero più in programma Summit, in realtà c'è stato sì un incontro con l'avvocato francese che di fatto, dopo la firma della procura con lui, rappresenta ufficialmente Rafa Leao da aprile. Non il papà, c'è stata anche risulta una discussione nella giornata proprio tra l'avvocato e papà Antonio, perché per l'avvocato non doveva presentarsi il papà, ma chi appunto lo rappresenta. Cioè l'avvocato che se ci pensiamo, subentrando Orge Mendes, che è uno squalo, il procuratore, il manager più importante in circolazione, forse viene visto con poca credibilità, ha poca riconoscibilità. Per questo la decisione di presentarsi con un blitz a casa Milano, anticipato anche perché lui era previsto nei giorni prossimi a Milano. Il papà è tornato in patria in Portogallo nel pomeriggio e c'è stato questo incontro, di fatto interlocutorio, non si poteva prevedere diversamente, anche perché è il primo di quella che dovrebbe essere una lunga serie. Il Milan fa sapere che non vuole pagare il risarcimento con la famosa multa che Leao deve allo Sporting Lisbona per il trasferimento a parametro zero qualche anno fa al Lille in seguito a un'aggressione subita dai tifosi nello spogliatoio. Il Milan fa sapere questo, dopodiché è giusto anche che comunichi una volontà di non partecipare, altrimenti crea un precedente anche per altri giocatori. Magari poi ci sarà un contributo con un ingaggio un po' più alto, piuttosto che un bonus alla firma, questo eventualmente si vedrà. C'è sicuramente una trattativa non facile perché ci sono diversi elementi che la rendono ancora più complicata. Intanto la doppia procura, perché ieri il manager Ted Nivula ha detto dovete parlare con me, dovete relazionarvi con il sottoscritto, io sono l'agente di Rafa Leao. Però sullo sfondo rimane in qualche modo sempre la minaccia di Orge Mendes che tra l'altro ottimi rapporti con lo Sporting e può in qualche modo cercare di arrivare a uno sconto rispetto a quella famosa multa, rispetto a quel famoso risarcimento. Quindi Mendes è sullo sfondo che minaccia e prova sempre un po' a inserirsi. Dall'altra parte c'è un'altra variabile che rende tutto complicato, cioè l'ingaggio. L'ingaggio perché è l'ingaggio più importante che il Milan eventualmente riconoscerà. C'è il decreto crescita che può favorirlo, però se mettiamo insieme gli elementi multa e ingaggio capite che i parametri economici in ballo sono notevoli. Il Milan vuole fare uno sforzo importante, Paolo Maldini ha convinto Gerry Cardinale dell'importanza di proseguire con Rafa Leao e quindi di tirare fuori una somma importante. È chiaro che Leao in questo momento ha gli occhi di mezza Europa addosso e quindi probabilmente avrà anche delle offerte superiori rispetto a quella che il Milan pur sforzandosi potrà tirar fuori. Bisogna capire poi la sua volontà che risulta essere quella di rimanere al Milan, però sappiamo purtroppo che i soldi spesso fanno la differenza. Bisogna rimanere con i piedi per terra, vedere l'evoluzione. Ieri il Milan ha comunicato ad Inboulat che nei prossimi giorni e nelle prossime ore presenterà un'offerta importante. Basterà per accontentare Leao oppure no? Questo lo scopriremo. Detto che la volontà del Milan è di chiudere entro un mese, entro l'inizio del mondiale, mi sembra che il tempo sia piuttosto ridotto e che quindi non sarà facile arrivare a rinnovo prima del mondiale. Nel mondiale Leao può esplodere, può ottenere ulteriori offerte importanti o magari anche fare male e quindi è un rischio o un'opportunità firmare prima, dipende dai punti di vista, dipende da come andrà poi Raffa Leao nel mondiale. Leao che è stato classificato quattordicesimo qualche giorno fa nella classifica a pallone d'oro e ha superato anche il connazionale Cristiano Ronaldo che per la prima volta non è il primo portoghese nella speciale classifica. Ora, ieri è stata una giornata intensa anche perché c'è stato un via vai a casa Milan. In mattinata si è presentato Ledur che è l'avvocato legato a Roc Nation, un partner del Milan, ma è l'avvocato manager rappresentante, chiamiamolo pure agente, di Ziyech ma anche di Lang. Ziyech, vecchio pallino, sinceramente mi risulta complicato pensare che possa arrivare a gennaio perché c'è un po' di overbooking da quelle parti. C'è Sanemakers che rientrerà seppur da un infortunio con tutti i punti di domanda del caso, c'è Messias, c'è anche Brahim adattato da quella parte e se si continua con il 4-2-3-1 con un centrocampista al posto del trequartista offensivo, a quel punto anche De Ketelare per forza di cose dovrà essere adattato sulla destra. Dall'altra parte invece Noa Lang è un vecchio pallino, giocatore del Bruch che quest'anno ha giocato poco e ha fatto un gol e un assist nella Jupe del Pro League condizionato molto dall'infortunio alla caviglia. È un carattere fumantino, proprio l'opposto di De Ketelare, con cui però in campo si trovava alla perfezione. Lui è un giocatore che si può utilizzare in diverse posizioni ma è prevalentemente un esterno di sinistra. Quindi, visto che il mercato non finisce mai, è giusto aggiornarsi, è giusto tenersi informati e capire che se Leao non dovesse rinnovare a quel punto ci sono anche delle alternative. L'idea del Milan è di provare a forzare per arrivare al rinnovo nel prossimo mese, mezzo e mezzo, massimo due. Se così non fosse, escludo che possa partire a gennaio, a quel punto andrebbe via la prossima estate. Con il Milan che comunque ritiene che anche a un anno della scadenza Leao, il suo cartellino meglio, è destinato a non vedersi depaperato troppo. Può calare di qualcosina, ma comunque è una cifra eventualmente importante. Questa è la situazione. Nel pomeriggio invece un intermediario vicino all'entourage di Armando Broia, che è l'attaccante classe 91 del Chelsea, molto interessante. Anzi, non classe 91, credo che abbia 21-22 anni. Ora magari verifichiamo con l'ausilio della regia. Alto 1,91. Mi ricordavo che c'era un 91. Che potrebbe spostarsi in prestito, qui ha fatto un gol in Premier League, ha giocato poco, sta giocando poco. E il Chelsea si sta interessando in maniera importante a Jonathan David, attaccante del Lille, che piaceva anche al Milan. E quindi uno può entrare, l'altro può uscire con la formula, la Tammy Ebram, che la Roma appunto ha portato qui qualche anno fa. È un 2000 e? È un 2000, quindi ha 22 anni. Attaccante interessante di Movimento. Non Jonathan David, dicevo Armando Broia. Verifichiamo, è il bello della diretta, ragazzi. E poi voglio capire che cosa ne pensate, con chi eventualmente sostituireste l'Eau, qualora partisse. È un 2001, quindi ha 21 anni. Armando Broia, attaccante albanese, autore di 4 gol in 16 partite con la sua nazionale. Questa è la situazione, ragazzi. È un coltino di venire. Sbilanciarsi è molto, molto rischioso. Visto i precedenti, bisogna davvero rimanere con i piedi per terra. Anche se agli atti ci sono le decreazioni. Di Maldini un mesetto fa al Festival di Trento, quando disse che ci sono buone possibilità di arrivare a un accordo con l'Eau. E anche quella di qualche giorno fa di Massara, in occasione della gara del calcio, quando dice, appunto, siamo fiduciosi sul buon esito della trattativa per il rinnovo. Avranno ragione oppure no? Lo scopriremo stata facendo. Ovviamente vi aggiorneremo sempre qui, puntualmente, giornalmente, sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi, lasciate un like e commentate numerosi. Alla prossima! Alla prossima!